Il cortometraggio fuori concorso con un interprete speciale, chiamo sul palco, Maria Grazia Cucinotta. Ecco qui, Maria Grazia. Dunque, tu sei interprete di questo cortometraggio che si intitola Flat e di una regista donna, tra l'altro. Io volevo farti questa domanda. Cosa hai provato innanzitutto a misurarti con un lavoro, un cortometraggio che sicuramente è differente da un lungometraggio, da un film, una grande produzione? E poi cosa si prova anche a essere diretti nell'ambito del cortometraggio da una donna? Guarda, quando ti dirige qualcuno ha una importanza che sia donna o uomo, l'importante è che ti sappia dirigere. E oggi c'è una grande difficoltà nel trovare qualcuno che sia talmente generoso da far sì che tu sia brava in quello che tu stai facendo. Ecco. Lo stanca pure io. L'ultima domanda, ecco, hai partecipato ad altri cortometraggi nella tua rea? Ne ho fatto un altro, ma questo qui l'ho amato in particolar modo perché Gaia Gorrini, che è la regista, è una mia amica. Con lei ho fatto il mio primo film importante che era Il Postino e ritornare a essere diretta da lei perché lì me ne ha aiutato tanto. Nel senso che quando ho iniziato a recitare non sapevo fare quasi nulla e lei ha avuto la pazienza di mettersi lì a spiegarmi come andava a fatto questo lavoro. E quindi con questo cortometraggio insieme a tutta la nostra platea ora vediamo Flet di Gaia Gorrini interpretato da Mare Grazia Cucinotta. Grazie. Prego, ciao. Grazie.